Per gli amanti dello shopping, Killjoy Outlet vi aspetta al centro commerciale La Fabbrica. Per voi la possibilità di fare shopping acquistando capi di importanti brand a prezzi convenienti. Killjoy Outlet mira ad essere punto di riferimento per le grandi firme della moda italiana, ma anche per i brand di nicchia prima lontani dalla realtà dell'outlet. Killjoy Outlet, prodotti di alta qualità, a prezzi vantaggiosi. Vi aspettiamo in via Tiberio Claudio Felice, a Salerno, presso il centro commerciale La Fabbrica. Da Killjoy e Killjoy Outlet arrivano i saldi, sconti fino al 50%.